Sono buonissimi, sono croccanti, sono morbidi dentro, sono i bocconcini di pane fatti con farina di riso e farina di avena, ricoperti di avena. Vediamo insieme come fare questa meraviglia. Per fare questi bocconcini, forno preriscaldato a 190 gradi per 25 minuti. Hai bisogno di 150 grammi di farina di riso e 150 grammi di farina di avena, un uovo, un cucchiaino raso di sale e un cucchiaino raso di lievito istantaneo per salati, un cucchiaino di chia, uno di semi di lino, uno di semi di sesamo e uno di semi di girasole, un cucchiaio di yogurt greco pieno, 100 grammi d'acqua. Impasta bene tutto, dai la forma, l'impasto deve essere un po' appiccicoso così in modo che l'avena attacca all'esterno. Crea dei piccoli bocconcini, infornali su carta forno e gusta questa meraviglia, accompagna i tuoi pasti e perché no, anche delle creme dolci la mattina per fare un'ottima colazione. Prova e fammi sapere.